Ben trovati da Radio Nof, io sono Luigi Pistone che vi auguro la buona giornata e siamo qui in compagnia dell'autrice Sara Maifredi per la rubrica e salotto della letteratura. Bentrovata Sara. Grazie, vi ringrazio per avermi invitato. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Oggi presentiamo il libro che sia cartaceo che in formato digitale Il diamante dei creatori e i cavalieri del cristallo, primo volume, quindi si presuppone che ce ne saranno altri? Sì. Senti, possiamo darci, io ti sto dando del tuo e se non ti genera problemi continuiamo, se no usiamo il lei più professionale, come vuoi. No, no, va bene, va bene. Io sono Luigi, va bene. Allora Sara, volevo farti una domanda. Come possiamo identificare il tuo libro come genere letterario? È una bella domanda perché in realtà il mio testo non si può classificare con un genere, per il semplice motivo che è sì un fantasy, ma è contaminato da altri generi. C'è dentro del romance, c'è dentro della mitologia ellenica, del crime. Ho fatto un myth che lo rende non classificabile, completamente diverso dal classico fantasy. E questa è una bella cosa perché nel momento in cui c'è un mix di generi diventa più appetibile perché il fantasy da solo ha una sua fascia di lettori, il crime altri, il romance altri. Nel momento in cui si fa una sorta di, diciamo, un miscuglio, che poi non lo è perché è pianificato a dovere, è stato fatto da te in maniera certosina, lo so perché abbiamo avuto modo di parlarne a microfoni spenti e abbiamo anche discusso di questo. Quindi sei riuscita a trovare un genere letterario che è diverso da quello che è singolarmente preso un genere per farne una sorta di crogiolo dove si fondono più generi e quindi diventa più allettante. Una domanda, puoi dirmi perché la scelta di questo titolo? Perché il titolo Il diamante dei creatori, il diamanti praticamente è il protagonista indiscusso, è ciò che stravolge la vita dei personaggi e la storia è tutta legata al diamanti che è un manufatto divino. Poi un'altra cosa di cui dobbiamo darlo, qualche piccolo anticipo lo dobbiamo dare, da quello che ho avuto modo di conoscere, perché io non ho letto il libro quindi non so proprio precisamente come si snoda, però abbiamo una distinzione su più livelli temporali. Sì, abbiamo praticamente il mondo di Gabriel che è ambientato nel 2042 e il mondo di Sims che è ambientato nel 1844. E si incontrano questi mondi, questi mondi temporali ecco. Sì, è tutto strettamente correlato, praticamente sono due storie che viaggiano in parallelo unendosi nel finale. Sì, è tutto strettamente correlato. Sì, è tutto strettamente correlato. Ma per sommi capi, senza dire troppo, perché altrimenti togliamo poi il gusto di reggerlo, Di che tratta il libro in sé? Non una trama, ma qualche accenno, qualche spunto per dire di che cos'è? Praticamente questi quattro personaggi che vivono nel 2042, a un certo punto della loro vita, si ritrovano stravolti che due finiscono nel 1844 in questo mondo parallelo e altri due sono lì. Naturalmente questa sparizione di queste due persone va a cambiare anche le loro vite. Iniziano delle ricerche di polizia, dall'altra parte si ritrovano con un compito dei creatori e di essere parte di un ordine iniziato in teoria con i loro avi, che è quello dei Cavaliere del Cristallo. Ci vuoi leggere qualche stralcio del testo? Se ti va? Sì. Allora, questa qua sarebbe una parte del prologo, diciamo. Eh, va bene. Allora, mondo distinse, Monte Onivid, isola di Sidda. Un falco dalle ali dorate, qualche minuto dopo, sorvolava i templi del Monte Onivid. Oltrepassò le verdeggianti pianure e il fiume cristallino, sfiorandolo con la punta delle ali. Giunse alla fonte e atterrò davanti a Eluk. Tinchinò e prese forma di donna. «Somo Eluk, mi avete convocata?» Rimase in ginocchio. Con un lieve movimento della mano scostò ai lunghi capelli corbini. Sistemò la cintura dove era legato il fodero con la spada, attorcigliatosi nei veli rossi che ornavano la veste bianca. La somma divinità elfica, con la mano, le effettua cenno di alzarsi. Ho un compito da affidarti. Trova dei mortali che portano il simbolo dell'infinito. Dei vegliare sul loro cammino. Alzò lo sguardo verso il cielo, in direzione di Teios. L'evolversi della faccenda sarà complicata. La deacchino al capo, come desiderate. Riprese sembianze di falco e con un battito d'ali potente spiccò il volo verso i territori percorsi dei mortali. Senti Sara, da come hai potuto vedere dalla cover, è possibile trovarlo sia su piattaforme digitali, quindi in formato ebook, sia in formato cartaceo, ed è possibile, oltre agli store online, dove è possibile trovarlo? Attualmente su Amazon parlo, però adesso il 23 settembre alle ore 20.45 con il patrocino del comune di Fagnano Lona ho avuto il consenso per fare una presentazione presso la biblioteca comunale in cui ci sarà la possibilità di acquistare il libro o di avere una dedica personalizzata e effettuerò anche un firmacopie con la sua presentazione. E per chi non può raggiungere il centro che è in provincia di Varese? Quindi per chi non può raggiungerlo è possibile contattarti personalmente? Hai una pagina Facebook? Ho una pagina Facebook dedicata dove mi si può mandare un'email e comunque io sono disponibilissima a inviare il libro. E vogliamo, in maniera, scandiamo bene le lettere, la pagina Facebook come bisogna trovarla? S.maifredi Quindi, lo ripeto, anch'io vediamo così se ho compreso bene, S.maifredi, giusto? E vedranno come volto il tuo, giusto? Come immagine? O vedranno il libro? S.maifredi No, come immagine di profilo praticamente la si trova un po' su tutti i miei canali social, è un'immagine che ho creato io con una sovrapposizione di immagini che è una donna metà angelo e metà demone rimanendo sempre nel contesto fantasy. S.maifredi Ah, va bene, va bene. No, perché sai, è importante dare anche queste indicazioni, perché quando si fa la ricerca su Facebook, molte volte ci sono omonimie, a volte uno non sa quale potrebbe essere. Però già il fatto di usare la S puntata e poi mai fredi, in teoria non dovrebbero esserci molte omonimie su Facebook. Poi eventualmente dare la tua email con calma, qual è la tua email? S.maifredi88chiocciola.gmail.com S.maifredi88chiocciolahotmail.gmail Allora, ripetiamo, s.maifredi88chiocciola.gmail.com Sì. Perfetto, no, abbiamo dato più indicazioni possibili, immaginabili, così possono anche, vogliamo dire anche il prezzo, quanto costa? Su Amazon è 12,90€ il cartaceo, invece l'ebook 2,99€. Perfetto, no, è un prezzo molto accessibile. Invece sul Kindle è gratuito. È sempre gratuito o solo, no, solo i pochi primi giorni, poi è sempre gratuito? Ah, perché ha fatto l'abbonamento? Sì, ho capito, sì, certo, certo. No, è importante dare, molte volte si è un po' resti a dare il prezzo di copertina, però considerando che il prezzo è basso, Io parto sempre dal presupposto che un po' ci mettiamo, come dire, un prezzo economico, un po' ci mettiamo qualcosa di nuovo dal punto di vista concettuale nel testo, un po' stimoliamo la curiosità, dall'altro lato alziamo anche l'asticella dei lettori potenziali e quindi abbiamo un doppio risultato. Si vende di più, si legge di più e il mondo letterario italiano cresce di più. Fare in modo tale che i miei personaggi riescano a far vivere e a emozionare i lettori, per me l'importante è quello. Certo, sì, no, io l'ho voluta vedere perché da questo punto di vista, nel momento in cui io leggo più libri, ho davanti a me tantissime vite, quindi, come dire, è una sorta di viaggio a ritroso che però mi ritrovo negli anni, se invece non leggo mi ritrovo una sola vita, cioè la mia e basta, quindi più si legge e più si vivono più vite. Non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa, se no possiamo chiudere anche qui. Se vuoi leggere qualche altro stralcio del testo, va bene. Ma proprio brevissimo, giusto per dare così un po' un'idea, anche un breve dialogo, una breve descrizione, quello che più ti piace, senza svelare troppo, questo è l'importante. Dai, ce l'ho. Una notte mi apparve in sogno l'oracolo. La fanciulla mi comunicava che io e Nairo eravamo stati scelti dai dimurgoi come primi membri dell'Ordine dei Cavalieri del Cristallo, il cui simbolo sarebbe stato quello dell'infinito. Questo marchio sarebbe apparso sui nostri pulsi quando avremmo trovato il pezzo del diamante che dovevamo proteggere, custodire ed effettuato il giuramento. Dopo diverse frasi illegibili, a causa dell'inchiostro sbavato, in basso si poteva intravedere un'altra frase. Trovammo la pergamena, era scritta nella lingua antica dei dimurgoi. Quando ci fu tradotta scoprimmo cose che avevano dell'incredibile, dal motivo della creazione di quell'antefatto divino al suo utilizzo. Ci fu comunicato che i nostri discendenti avrebbero fatto parte anche essi dell'Ordine. Il simbolo sarebbe rimasto celato in loro e apparso solo sui pulsi dei prescelti, quando avrebbero dovuto compiere l'incarico finale. Grazie Sara. Quindi dobbiamo aspettarci, visto che il primo volume è un secondo volume. Eh sì. E a breve, quanto tempo ci vorrà? Ci stai già lavorando? Sì, ci sto già lavorando e spero entro fine anno di riuscire a pubblicarlo. Però dobbiamo vedere. Al massimo verrà rinviato all'anno prossimo. Allora, quindi facciamo così. Prendiamo un impegno, tanto ormai i numeri li abbiamo, tu hai il mio, io il tuo. Quando esce il secondo volume, mi fai, o mi telefoni, oppure mi mandi un messaggio su WhatsApp. Com'è meglio credi? E facciamo un altro incontro. Che ne pensi? Guardi, sarebbe un onore. Eh, va bene. Sarebbe un onore. È un onore per noi. Allora, Radio Nof ti fa i migliori auguri di vendere e di, come dire, a far appassionare al tuo testo tanti lettori. I migliori auguri anche da parte mia, quindi da Luigi Pistone. E un grazie per aver preso parte al salotto della letteratura. Grazie a lei. Da Radio Nof è tutto, arrivederci alla prossima occasione a tutti i nostri ascoltatori. Un saluto da Luigi Pistone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.